Tanti auguri a te! Ecco il dolce! Il dolce, 100 grammi, 300 kilocalorie. Possiamo permettercelo? Ovviamente sì, non è un dolce che rovinerà di certo la nostra alimentazione sana, però possiamo prevenire con un semplice trucchetto che io oggi ho fatto. Andiamo a parlare con Luca del passato. Il workout che preferisco per concellervi il dolce è il Tabata. È molto facile da fare. Prendiamo il nostro timer ed impostiamo. 8 esercizi, 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero. Un minuto di riposo tra i giri e lo faremo per 4 volte. Lo faremo insieme. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, good chopper! E giù! Ti voglio concentrati perché vi dirò gli esercizi e te li faremo. Sì! Bravi così! Ah, piegatatini! Vai ancora, forza! Pronti? Adesso sentiamo i suoni, eh? Quasi tasto! E stop! Il secondo esercizio è un mountain climber scelto da Brando. Sì, vai! Ti sei in un campioncino. Mettiti di là così vedrai. Pronti? Bravo, a farlo. Via! Bravo! Vai, vai, vai! Mi c'è in barco. Vai, bellissimo! Guarda, bravo Brando! Scala, scala, a montare. Ecco che abbiamo quasi fatto. Perfetto! Il nostro terzo esercizio saranno dei piegamenti. Pronti che ora posso iniziare, eh? Pre! Piegamenti! Scendite Dante! Mannaggia Dante! Vai! Amore, fammi spazio. Gambe tese! Addirittura! Vai! Ovviamente potete colgire le gira occhia. Come la mamma. E Dante! Sì! Il nostro quarto esercizio sono dei jumping jacks. Fa lì? Però non ci entriamo. Davanti, eh? Vai, qui davanti. Via! Via! Guardi. Vai, piccoli soldatini! No, io sono Hulk! Vai, piccolo Hulk! Sei verde come Hulk oggi. Dai, dai, dai! Oh, scusa! Come la mamma! Sì, sì, sì! 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 Il nostro quinto esercizio sono dei squat calf. Pronti? Fatemi direi. Ti lascetti squat. Vabbè, vabbè! Via! Squat e punta! 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 Vai! Bravi! Bello brando questo angolo di ginocchio! Vai così! Bellino! Vai! Il sesto esercizio, addominali e gambe tese. Sbagliati, come! Vai, amore! Vai, West End! Vai, West End! Vai, West End! Sì, sederino! Gambe stese! E su! Mamma, non rubare! No, no! Vai! Tira su! Su! Sotto! Vai! Dai che finita! Su! Tira su ste gambotte! Bravi così! Sì! Vai, pompiamo sto addome! Tenendo bene la schiena, eh! Sì! Bellissimo! Il penultimo esercizio, apertura in planca! Appoggiamo le mani, queste lasceranno! Pronti? Sempre facilissimo! E apro! E apro! Bravi così guerrieri! Mamma mia! Come andiamo oggi? Poggi con mamma! Poggi con mamma! La mamma! Però non possiamo dire! Ma guarda, bellissimi due! Bellissimo! L'ultimo esercizio dei burpees! Vai! Questi li facciamo bene, eh! Pronti con i burpees? Burpees! Faccio io! Vai andiamo con i burpees che lasciati tante! Ok! Su forza! Ammio! Se andremo a mille follower, ne faccio mille! Mille in uno un giorno! Mille me le faccio! Mille! Le faccio anche te! Allora, mille le facciamo i 24 ore! Sarebiamo a mille follower! Vai! Dividiamo in cinque! E recupero! Bravi! Adesso! Recupero! Dopo i tre infarti, recuperiamo un minuto e lo rifacciamo per tre volte in modo da arrivare a 20 minuti di allenamento! Questo allenamento arriva a bruciare fino a 300 kcal così possiamo concederci il nostro sgarro! Possiamo farlo poi il giorno dopo come recupero o abbinarlo alla nostra routine di allenamento oppure farlo perché ci piace! Guarda la mamma ogni tanto! Che gli piace fare... Tabata! Tabata! E li fa... Sì! Sempre! Anche prima l'anna fa la spesa! L'ho visto? L'ho visto? L'ho visto? Anche con le buste addirittura! Con le buste! Torniamo al nostro Luca del futuro per i saluti! Ciao belli! Oddio! Cari il cartongesso! Ciao a tutti ragazzi! Ricordatevi di iscrivervi al canale! Accendere! La campanellina! Mettere! Minchare! E condividere! Scriveteci nei commenti qual è il vostro trucco per mangiare i dolci senza sentirvi in colpa! Mi raccomando eh! Al prossimo video! Uno, due, cettella! Il dolce! Uno, due, cettella!